ebrei cari amici ebrei da mauro biglino a serafino massoni ebrei cari amici ebrei da mauro biglino a serafino massoni ho ora ascoltato una stupenda relazione di mauro biglino io questa stupenda relazione di mauro biglino ve la metto come link nel riassunto di questo video così anche voi potete ascoltarla e fare le vostre personali considerazioni la relazione intitolata mauro biglino parla francamente e dice che gli elohim sono tra noi premessa il grande friedrich nice diceva non ci sono fatti ma solo interpretazioni e mauro biglino interpreta alla sua maniera la bibbia che sia chiaro e la interpreta bene la interpreta in una maniera originale dalla interpretazione di mauro biglino beh questa è la mia opera principale questa è la mia opera principale poverina esaurita poverina perché uscita 15 anni fa ma presto torna nelle librerie nel catalogo della casa editrice leonida edizione beh la interpreta bene la bibbia la interpreta bene che sia chiaro molto molto avvincente quello che dice mauro biglino vedete che librone allora saltano fuori gli ebrei saltano fuori gli ebrei senza volerlo senza volerlo inconsciamente dalla interpretazione di mauro biglino e salta fuori e che gli ebrei hanno una marcia in più salta fuori salta fuori e biglino torna indietro nel tempio torna in mesopotamia là dove i tigri lo frate sfociano nel mare e c'è quella terra che è la terra dei sumeri da dove circa 2000 anni fa e sarebbe provenuto e abramo abramo ebrei si chiamano ebrei perché discendono da abramo poi biglino dice può darsi pure che abramo non sia esistito ma conta poco ma tutto sta che i ebrei sarebbero venuti dalla terra dei sumeri da caldea e perché si sarebbe consumato consumato da da quelle parti si sarebbe consumato un connubio un connubio un connubio un connubio tra gli elohim elohim comunque degli esseri superiori degli esseri superiori e le figlie dei umani dei figli di noi di noi di noi sarebbe nata una razza particolare che sarebbe la razza ebraica e guardate che la prima grande civiltà la civiltà che precede quella egizia è proprio la civiltà sumerica che sia chiaro e poi c'è tutta la storia degli ebrei dalla terra dei sumeri alla terra di cana all'egitto mosè poi ritorno in nella terra di cana poi la conquista romana la diaspora poi la seconda guerra mondiale la shoah poi il ritorno il ritorno alla terra di cana con la nascita dello stato di israele nel 1948 è una bella interpretazione quella di di mauro biglino c'è di in mezzo alla genetica ma senza girare attorno al problema io le cose che dice mauro biglino le ho già detto da le ho già dette da illo tempore illo tempore perché per esempio nella mia storia della filosofia vedete che c'è anche la mia storia della filosofia vedete e che costa quanto costa la mia storia della filosofia neanche due euro però non dovete spendere nulla voi perché la mia storia della filosofia la trovate gratis su youtube e c'è c'è una lezione una lezione dentro questa mia storia c'è una lezione che si chiama chi chiama i semiti alla conquista del mondo ebrei sono sumidi sono semiti gli arabi sono semiti gli ebrei sono semiti c'è una mia lezione magistrale intitolata i semiti alla conquista del mondo in questo caso i semiti ebrei e sì che i semiti ebrei hanno conquistato il mondo i semiti ebrei che hanno conquistato il mondo tramite l'ebreo Gesù e il cristianesimo e coi dieci comandamenti gli ebrei hanno conquistato l'impero cristiano e l'impero romano tra l'imperatore costantino e l'imperatore seodosio al 313 dopo cristo al 380 390 dopo cristo dall'editto di milano l'editto di tessalonica e l'impero romano e diventa un impero teocratico un impero cristiano poi i dieci comandamenti hanno conquistato l'Europa noi viviamo dentro i dieci comandamenti poi tutto il mondo perché i dieci comandamenti in pratica che ti dicono non rubare non desiderare la roba ad altri non desiderare la donna ad altri ecco sì c'è stato un esperimento genetico dice Mauro Billino e da questo esperimento genetico è scatolita una nuova razza ed io volontariamente e Mauro Billino involontariamente concludo concludiamo questa razza particolare è la razza ebraica è la razza ebraica e loro parliamoci chiaro gli ebrei sono soltanto 16 17 milioni noi poveracci siamo 7 miliardi eppure il mondo è in mano a questi 16 17 milioni di ebrei perché sono loro che gestiscono l'economia e la cultura e così beh comunque io qua chiudo cari amici chiudo potrei parlare a lungo ma ho già parlato tanto 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 già parlato va bene ok cari amici vi lascio all'ascolto della bella conferenza di Mauro Billino che vi metto come l'ingresso di questo video ok bene 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 a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni ok 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 ok